L'espressione della settimana è chiusa una porta si apre un portone. La porta è una cosa piccolina, è di solito la porta che si trova all'ingresso delle case, il portone invece è una cosa un po' più grande ed è di solito la grande porta che, almeno in Italia, si trova all'ingresso di grandi edifici, grandi edifici che possono essere condomini o che possono anche essere degli edifici pubblici come una posta, una banca eccetera eccetera. Quindi capite che il senso dell'espressione è che quando una cosa piccola si chiude, una cosa piccola come una porta, in quel momento una cosa ancora più grande si apre, una cosa più grande come un portone. Alla prossima